Se qualcuno ricorda qual era l'esperienza di navigazione su siti web che si aveva sui primi smartphone usciti, ricorderà che non era molto piacevole. Immaginate di tornare indietro al lontano 2007, l'anno di uscita del primo scintillante e futuristico iPhone. All'epoca, ben 14 anni fa, l'accesso al web era possibile solo da PC, a parte poche altre limitate tecnologie. Quindi, tutti i siti web erano stati concepiti per gli schermi più o meno grandi dei nostri computer. La navigazione da smartphone era frustrante, perché i siti venivano ristretti per essere accomodati sui piccoli schermi da 3 pollici e mezzo dei primi iPhones. Gli sviluppatori però si misero subito al lavoro e in breve tempo i siti web più importanti vennero sviluppati anche nella loro versione mobile. Infatti, se vi ricordate, anche da PC si poteva navigare sull'URL della versione mobile. Qui, ad esempio, potete vedere Wayback Machine, è un sito che permette di andare indietro nel tempo sul web, di vedere i siti come erano una volta. Questo è il sito del New York Times. La versione mobile, infatti vedete qui sopra mobile.newyorktimes.com ed era, il layout era fatto in modo tale che la larghezza stava nello smartphone e si poteva scrollare per leggere le informazioni. Con il tempo però, fortunatamente, le cose cambiarono e si affermarono i principi di quello che viene chiamato Responsive Design. Nel caso del Responsive Design abbiamo quindi un unico sito che però si adatta allo schermo su cui viene visualizzato. Vediamo cosa si intende. Qui abbiamo un sito di dev.to, è una comunità di sviluppatori, postano informazioni molto interessanti o tutorial o cose del genere. Quindi se facciamo Inspect, non l'abbiamo ancora visto ma vedete qui in alto questa icona è quella per mettere la modalità Device. Quindi ci consente di vedere o qui di selezionare un device, ad esempio iPad, quindi ci mette la larghezza dell'iPad, le dimensioni dello schermo dell'iPad, oppure di mettere Responsive e quindi di adattare lo schermo. Partiamo da una larghezza molto ampia e vedete che il sito si presenta in un certo modo. Se scendiamo nella larghezza, quindi uno schermo sempre più piccolo, le cose si restringono ma a un certo punto qualcosa cambia. Quindi già qui qualcosa è cambiato, vedete? Ad esempio questi contenitori spariscono per dare più spazio al contenuto principale che è questo. Ok? Qui, se fate caso, anche qui qualcosa cambia, in questa zona dove sono sopra col puntatore. se vedete, ad esempio questo font diventa più piccolo. Ok? Se rimpiccioliamo ancora di più, guardate qui c'è un altro salto, se rimpiccioliamo ancora di più, questo di solito sotto i 750, in quella zona lì 770 pixels di larghezza, viene visualizzato come lo visualizzerebbe uno smartphone. Quindi su uno smartphone noi vedremmo tutto incolonnato in questo modo, perché non abbiamo abbastanza larghezza, però abbiamo tutta l'altezza che vogliamo perché scrolliamo. E quindi il sito si presenta in questo modo. Quindi il sito è uno, ma nel foglio di stile vengono definiti diverse visualizzazioni a seconda della larghezza del device, ad esempio. Quindi qui vedete, questo è come verrebbe visualizzato su uno smartphone, esattamente. È andata via anche questa parte sulla sinistra, questi menu. Così. Ok? Vediamo un altro esempio. Il sito di Raspberry Pi. Facciamo anche qui inspect e clicchiamo. È già cliccato. Quindi parte da questa posizione, man mano che rimpicciolisco, ok, vedete il menu, ad esempio, questo menu qui in alto, rimpicciolisco e ad un certo punto sparisce e diventa un menu, questo si chiamano Burger Menu, perché assomiglia a un hamburger, perché su mobile non abbiamo tanto spazio. Rimpicciolisco, rimpicciolisco e anche le immagini sotto, che prima erano organizzate in questo modo, mi vengono organizzate in un modo diverso. Quindi i contenuti sono gli stessi, l'HTML è lo stesso, ma il modo in cui viene visualizzato cambia, ok? Così è come lo vedrò su mobile, questo sito. Andiamo anche noi su VS Code e facciamo un piccolo esempio. Quindi ho un HTML di base in cui ho una sezione con un div e all'interno c'è un H1 e del testo, un paragrafo. Per centrarlo ho usato Flexbox e ho dato alla sezione Display Flex, Flex Direction Column, poi per centrarlo al centro della pagina ho usato Align Items Center, perché l'asse principale, come abbiamo visto nei video precedenti, se me lo metto Column diventa quella verticale, quindi devo usare Align Items se voglio allineare nell'asse verticale. Poi ho un div a cui ho dato un margine di 100 pixel dall'alto per spostare tutto questo blocco un po' verso il basso, una larghezza di 80%, Text Line Center per allineare il testo, quindi sia dell'H1 che del paragrafo, all'interno del div. E poi ho dato un font size sia all'H1 che al paragrafo. Ora, andiamo anche qui su Inspect, in questo modo, vedete, rimane sempre uguale. Io rimpicciolisco, rimpicciolisco, l'unica cosa che fa è che si organizza il testo in modo tale da starci, ma il testo non cambia. Le proprietà che si utilizzano per rendere la pagina responsive si chiamano Media Query e la sintassi è questa. Si mette un at, in italiano si dice chiocciola, è il simbolo che usiamo sull'email, e poi si scrive Media, ok? At Media. Parentesi graffe. Ora, devo dare una condizione. Le condizioni sono tante. E le possiamo vedere, ad esempio, qui. Queste sono, ad esempio, le condizioni che posso dare. La larghezza del device, ad esempio, ce ne è tantissime, veramente. Ora, diventa complicato parlare di tutto ciò, perché alcune di queste, tra l'altro, sono ancora sperimentali o non adottate da tutti i browsers. Quello che ci interessa a noi al momento è, ad esempio, la larghezza del device. Per andare a modificare quello che visualizziamo tenendo conto della larghezza del device, si può usare Min Width o Max Width. Quindi, larghezza massima o larghezza minima. Vediamo cosa significa. Utilizziamo Max Width. Quindi, tra parentesi tonde, scriviamo Max-Width, in questo modo. Poi, due punti. E, ad esempio, diamo un Max Width di 700 pixels. E vediamo, adesso vedremo cosa vuole dire. Qui, all'interno delle parentesi graffe, ad esempio, andiamo a scrivere H1, così. E facciamo cambiare il colore all'H1. Quindi, Color, Crimson. Salviamo. E guardate se ridimensiono cosa succede. Se vado sotto, quindi, guardate qui in alto, io sono a 765. Appena scendo sotto i 700, cambia di colore l'H1, perché è quello che gli ho detto di fare qua. Avrei potuto cambiare il font o qualsiasi altro parametro. Quindi, questa dicitura cosa vuol dire? Vuol dire che al di sotto dei 700 pixels, fino a una larghezza massima di 700 pixels, si applicheranno queste proprietà qui sotto. Infatti, se io sono basso, qui in alto vedete, 389 pixels di larghezza. Salgo, salgo, salgo. La larghezza massima, quando arriva la larghezza massima di 700, vedete, sono 699, vado a 700 e diventa nero. Ok? Posso cambiare anche il paragrafo. Ad esempio, qui sotto scriviamo P e facciamo Color, Dark Blue. Salviamo. Scendo, scendo, vedete, è diventato Dark Blue. Se salgo, diventa tutto nero. Posso cambiare, ad esempio, il font. Ad esempio, l'H1. Facciamo Font Size. E 100 pixels. Ok? Guardate com'è grosso. Se vado sopra, i 700, lui rimane come era all'inizio. Scendo, cambia colore e in più diventa gli 100 pixels. Ora, di solito, le Media Queries, i parametri più utilizzati sono Max Width o Min Width, dipende da quello che preferite. Mettiamo la prossima Media Query. Di solito se ne mettono alcune, perché si vuole avere, come abbiamo visto negli esempi precedenti, ad esempio qui, in questo esempio, qui le Media Queries sono un po', saranno tre o quattro. Perché qui ho un certo layout. Quando scendo, vedete, a un certo punto, sparisce questo blocco e sparisce tra mille, seguite qui sopra i pixels. Quando salto da, c'è un salto a 1020 più o meno, ok? Quando scendo sotto i 1020 e qualcosa, lui sparisce. Quindi quella è una Media Query, già. Qui ce ne saranno tre, quattro Media Queries. Forse anche cinque. Noi qui mettiamone due e proviamo, ammettiamo di volere fare una 700 e una 500. Quindi scriviamo qui sopra, ancora, at Media, poi, parentesi, Max Width, due punti, 500 pixels. E poi, sotto, andiamo a dargli un altro colore. Ora, qui, ho fatto una cosa stupida perché, in pratica, quando diventa piccolo si ingrandisce il font, invece dovrebbe essere l'opposto. Quindi, per aver più senso questa cosa, mettiamolo a 100 pixels o a 70 pixels, quando è sopra i 700 pixels. Poi, quando scendo sotto i 700 pixels, faccio diventare l'H1 rosso e in più lo faccio andare magari a 40 pixels. E quando invece scendo sotto i 500 pixels, quindi voglio modificare ancora l'H1, copio tutto l'H1 qui sotto, in questo modo. Il colore, ad esempio, facciamolo cambiare di molto, verde, e lo rimpiccio ancora, lo faccio diventare a 20 pixels. E salvo. Quindi, sono sopra i 700, è tutto l'H1, è tutto nero, è di una certa dimensione. Scendo sotto i 700 e diventa rosso e più piccolo. Ora, quando scendo sotto i 500, lui dovrebbe diventare verde e più piccolo. Infatti, l'ho diventato. Come funziona minimum width? Minimum width funziona che se io metto minimum width qui, è salvo, la mettiamo, cancelliamo questo, oppure commentiamolo. Lui mi è nero sempre sotto i 700 pixels. Perché? Perché min width vuol dire che finché sono sopra i 700 pixels, quindi qualsiasi larghezza che è come minimo 700 pixels, quindi può essere di più, può essere 800, ma non sotto i 700 pixels, mi applica questo CSS. Infatti, se sto sopra i 700 pixels, mi applica quello, e invece se scendo mi applica questo sopra. Adesso, io preferisco usare max width, mi viene più intuitivo, però vedete voi. Quindi, dopo tutte queste parole, il concetto è questo. Adesso, andando avanti, utilizzeremo sia Flexbox che le media query per fare un piccolo progetto in cui utilizziamo il responsive design. Quindi non preoccupatevi se tutto ciò crea confusione. Facendo pratica, queste cose diventeranno più semplici e intuitive. Ci vediamo nel prossimo video.